bella ragazzi ed eccomi tornato sono gozfrax con il suo video sul mio canale una partita semplicissima con la n 94 ovviamente siamo in live e siamo su questa mappa melt juu proprio juu melt proprio così tipo tuo cane a cuccia e sto usando quest'arma che ho rivalutato perché di solito non in questo gioco non riuscivo a giocare con nessun fucile d'assalto a quanto pare tranne questo quindi l'ho rivalutata un attimo e sto provando a giocarci anche perché sembra abbastanza forte ovviamente non ci ho ancora sbloccato il silenziate or cerchiamo di ucciderlo sto usando con caricatori rapidi ed estrazione rapida perché ci permette di mirare più veloce mi sposto con la sedia ci permette di mirare più veloce ora dovresti sentirmi meglio e ciccia quindi insomma andiamo così fino a che non sblocco il silenziatore sto usando delle ricompenze basse anche perché ho appena prestigiato sono al quarto penso sia non lo so esatte sì non lo prendo meno male non ci credo no vabbè sono un coglione mi erano finiti i colpi vabbè comunque facciamo così e vediamo di uccidere qualcuno due tre eri ho fatto una sesto però mi sono sentito abbastanza figo tanto sì dobbiamo rendere assolutamente bravo perché se no non ha ma dio cane guarda l'ho preso lui non io perché mi ha ucciso la la bouncing cristo merlo vabbè e non abbiamo secondari qua quindi insomma ragazzi dato che no no così giocano bouncing betty e claymore ma no ma ton no vabbè pure io sono rincoglionito vabbè però almeno preinnescata una granata preinnescata che vuol dire boh lo lasceremo come come mistero questa cosa mi farebbe piacere uccidere quella persona ma a quanto pare niente ma che perdiamo charlie ma la ritroviamo oh no no visator vitale cosa chi l'ha chiamato 11 0 oh my karma non ci si crede guardalo 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 pezzo di merda 12 0 ma vaffanculo cristo iddio no niente tocca stare così qua ma bravo camperiamo cos'è posso salire per piacere grazie cristo iddio io voglio ammazzare oh my karma eccolo salva dentro e fai il timido liscio liscio headshot beach no unità k che unità k cosa chi sta là dentro c'è oh my karma oh 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 no ma perché mi mi schivava i co guarda stato un piacere fare questa bellissima mattina di 3 minuti e 54 con voi ragazzi chi è questo che sarà prestigio master niente ho flashato comunque è stato bello finché è durata comunque come potete vedere sono al quarto prestigio si livello 15 proprio ho prestigiato ieri sera quella che ho fatto prima era la prima partita del giorno e mettiamoci anche il lod star proprio così perché se ci dice bene fanno qualche kill in più poi come potete vedere ragazzi dall'epicità di questo emblema e soprattutto l'epicità di questo titolo di questa carta giocatore qui quindi proprio big money per frax è veramente qualcosa di bruttutamente epico cioè guardate emblema biglietto da visita e tag clan proprio qualcosa di epico comunque non so cosa usare perché la classe per molestare i bambini nigeriani ce l'ho col pd ov però after me ragazzi la mappa che mi sta più sul cazzo di questo gioco c'è veramente ingiocabile su questa mappa ci riesco a giocare solo se campero con il cecchino vabbè la partita è iniziata da otto da otto anni ma meno male che è alleato ma meno male qua c'è qualcuno no dai non ci credo non possiamo cominciare già così porca madonna cos'è oddio come ho fatto ho ucciso uno uno qui oh eh a merda ah andamole a pia mettiamo b ma piamola dai su dai dovrebbero sponarsi qua questo dai dai ma porco cribbio merda madonna sempre così eh oh sempre sempre cristo traversa guarda guarda mi era ritornata pure addosso mannaccia cos'è tu madre tu madre tu madre no dai beh c'è ma come cazzo fai a prendermi guarda non 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 io faccio il figo qua jump di qua shot della 360 mamma mia le partite ingiocabili delle 2.30 di pomeriggio mannaccia il signoraccio cristo io non riesco a portare un gameplay buono in live non si sa perché ma cristo è non c'ho manco un'arma decente da usare qua o faccio non so un verax con type 25 boh dsr che faccio usiamo il cecchino boh dipende dalla mappa slums col cazzo che c'è il cecchino guarda guarda un prestige 2 prestige master ci abbiamo oh my god it's temper e va bene ex of the obesis l'obeso di exo l'obeso di exo ex of di obesis exo obeso chi è questo guarda che emblemi tutti copiati fatevene uno vostro deficiente ecco exo l'obeso vabbè comunque c'ho un prestige master contro e 8 al quinto prestigio quindi col cazzo che ci andiamo contro col cazzo benissimo cerchiamo di votare standoff per il piacere magari usiamo anche un pdov così ci mettiamo embleme tag ci sta già cosa sto facendo abbiamo la scorpionevo quanto cazzo l'ho sbloccata la scorpionevo di pindy che schifo ma però se facciamo una classe con la scorpionevo usiamo quella così random dai e vabbè che magari me la fai fatta la classe diciamo no così leghiamo questa sentex oddio quanto sono a veloce oh 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 mio dio perfetto classe fatta sto al meglio mi vedi che non ce n'ho nessuno la dovrei fare oro benissimo allora saremo su standoff useremo la scorpionevo che proprio non pia manco da mezzo millimetro la scorpionevo cioè da mezzo millimetro pia è sciotta pure però dopo tipo i dieci metri così si sfancula in una maniera pazzia disparativo un colpo per volta però vabbè proviamo andiamo andiamo per il lode star e quindi ho pensato anche ieri se non l'avete visto il fuck you time proprio sfanculo time ho appunto fatto questo video dove alla fine dicevo se ci siete arrivati al fine dei 16 minuti in cui dicevo di propormi una serie da fare per questo canale ciccia e mazza proprio così quindi proponete poi e fatemi sapere devo parlarvi di una cosa importante ragazzi c'è un mio amico che si chiama mister bennett 95 proprio toons toons così che per esempio ha un canale youtube lui non solo ha un canale youtube ma ha sia questo canale youtube sia è anche un designer è un grafico ed è anche abbastanza bravo quindi mi farebbe veramente piacere lui a coltella l'aria mi sarebbe abbastanza piacere se voi passasse sul suo canale così a dargli un'occhiata a niente di più ma iscrivetevi se vi piace perché insomma mi ha fatto anche il bg che vedete adesso porca mignotta si pepio ti è molesto dove sta? è scomparso ah beh qua ci scompare la ge... ah ma stai qua porto due dai oh quello è il nemico quello è il nemico non ucciderò mai oh merda no dai vedi adesso scorpioniamo del cazzo di finire i colpi in due minuti proprio cazzo oh ma che cazzo fate via i colpi dai scriviamo se ci famo qualcosa qua reattività reattività la voglia di amare reattività si è stato bello finché è durato ora morite tutti quanti oh 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 voi non l'avete visto ma io si attenzione non c'è più no c'era c'era guardalo orca madosca la gente di merda col ballista oh tu madre è il ballista tua madre prendiamo bravo ma dove cazzo sta no no ma cos'è perché flawless cioè lui si chiama flawless venom grazie al cazzo al cazzo che fai flawless se campri come come le merde qua no e mo e mo e mo e mo sbuchi sbuchi 3 2 1 sbuchi non sbuchi ma porco dio ti levi battere che è pieno di gente là pieno di centaglia oddio andiamo sempre a questo oddio il rage cocio no no vado prima a sopra a ciocca questo dov'è dov'è quel cecchino dov'è ce n'era uno eh rc2 ma porco namo se ne d'acqua dai fratello dai cristo assist chi perdiamo chi perdiamo qua b fanno così va oh via fugone oh ma quanto stiamo qua tanto 13 tre meno vale oh 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 ciao frocio oh non ho visto un altro no flasho i mostri andiamo se ne affanculo oh oh chi è che mi stava sparando c'è qualcuno dietro perché ho questa sensazione cazzo no no Giulietta Romeo infine porco 2 mannaggia la mignotta oh questo cazzo stai ah coi oh porco di gribbio guardalo no e continuano a molestarmi continuano a stuprarmi la vita perché perché fatevi una vita oh headshot bitch headshot no headshot no perdiamo tua madre a 90 adesso puoi scommettere mi squilla il telefono ogni volta perché no mi sono nati dietro no vabbè spero che mi faccia la kilka quello mi abbia fatto la kilka ma perché mi voglio far proprio tu risate guarda quello 19.7 flawless venom è incredibile guardalo guardalo il quickscope che fa guardalo madonna mia proprio lui è ron ragazzi questo è il secondo il secondo account di ron cioè ron ciao flawless venom un uomo da odiare proprio quindi comunque ragazzi passate sul canale di mr bennett 95 ve lo lascio in descrizione per chi se fosse verso il primo passaggio proprio così il primo pezzo di discorso quindi venite là è andata via per i gameplay perché spacca i culi tua madre dei playmobil come si chiama playmobite dove state headshot bitch no dai mi stavo a girare porca la mignotta comunque stavo 13-3 ho fatto tipo 8 morti di fila proprio così ma guarda quel frocio gliel'ho attaccata gliel'ho attaccata mi stava inseguendo ma cristo no che coppia ma allora perché quando salto io cristo perché quando salto io non ammazzo mai nessuno quando zompettano gli altri come i i canguri froci qua mi piano mi ammazzano sempre io non li pio no non puoi camperare così no cos'è spune sono cos'è porco porco dio per piacere basta ma perché mi chiamo continuano a chiamare a telefono se non vi rispondo non vi rispondo cristo ma guarda questi che non muoiono no non ci credo cioè ma chiuso all'angolo questo cioè guardalo porco due sembra siamo a scopare che cazzo e vabbè ma dai c'è stavo a fare 27 27 cristo eh oh e c'è un nasci muori peggio di mv3 guardalo guardalo tua madre che mi inculi le kill tua madre che puoi uccidermi le vostre madri bocca ti devi levare da lì dio e perdiamoci lancia una granata di via no no non c'è no cristo no madonna oh è incredibile guarda ma vado in negativo eh ma ci vado eh guardalo non muoiono eh porca madosca no cristo 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 mannaggia basta chiamarmi al telefono cioè tutte le cose del mondo qui guarda questo non moriva guarda ma cosa perché vanno in giro in otto ma no niente proprio idioti continuano a chiamarmi questi ma porca madonna dove cazzo stava guarda io non vedo i nemici i nemici invisibili anzi cioè quanto fate schifo madonna sempre in otto vanno in giro perché sta ancora lì perché mi squilla il telefono eh cristo se non morivi adesso i bestimioni che ti arrivavano in capoccia ok ce la facciamo a salire sulla palazzino ok quello mi sa che mi ha visto no 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 flawless venom che camperi sulle casette fatti una vita merda guardalo quello era quello con la mitra iozza iozza no 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 come cazzo mi ha fatto a vedere questo porco due cioè abbiamo pure straperso una partita di merda cazzo perdiamoci ce la faccio ce la faccio grazie ora ci possiamo non ho la granata tattica cioè porco di cristo almeno sono arrivato primo coi punti guarda vaffanculo tua tua madre tua nonna e i morti in colonna proprio vaffanculo davvero cioè sto gioco è bello è bello se uno ragazzi è brutto da dire ma è così se uno rage quitta appena muore due volte di fila è un bel gioco così perché si riesce a fare qualcosa se no ti sputtani tutto cioè ero partito da 13-3 cazzo 13-3 poi stavo 27 20-7 e poi sono arrivato tipo 23-14 31-21 cos'è uno schifo uno schifo di merda comunque spero che il video vi sia piaciuto a me mi ha fatto schifo questa partita quindi nel caso vi sia piaciuto a voi vi lasciate un mi piace passate nel coso del Bennett e vaffanculo bella